Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina vogliamo affrontare una tematica delicata, la vogliamo affrontare con Roberta Rosin, psicoterapeuta che insieme a Chiara Dalle Lucche ha scritto sconvolti, viaggio nella realtà transgendere. Finalmente vogliamo fare chiarezza su un argomento dove a nostro avviso c'è ancora molta confusione, confusione che poi genera anche valutazioni errate ma sconvolti. Non a caso non è un titolo che nasce così da nulla, sia Chiara Dalle Lucche che Roberta Rosin hanno raccolto le testimonianze dei loro pazienti, dei loro assistiti, hanno sentito la necessità di raccontarle in questo volume. E cerchiamo di capire perché dando subito la parola alla mia ospite. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nasce tutto, lei mi diceva prima, fuori onda dal dolore che in qualche modo lei e Chiara provate nel confrontarvi con chi vive questa dimensione. Sì, anche perché non siamo delle scrittrici, siamo delle psicoterapeute e quando ci si trova di fronte a delle situazioni che ti sconvolgono qualcosa bisogna fare. Nel senso che anche noi siamo persone e l'ascolto di Andrea, nel mio caso poi, che è la persona di cui racconto sul libro, ma poi di tanti altri, Andrea e Sara, era qualcosa che volevamo fosse scritto e potesse rimanere come testimonianza perché il libro ha comunque una sua complessità. Nel senso che il cuore di sconvolti sono sicuramente le due storie cliniche, quindi quella scritta da me e di Andrea, e quindi di una persona nata biologicamente femmina, e la storia di Sara, che arriva poi dalla collega Chiara all'età di 17 anni e che era nata biologicamente maschio. E quindi questo era un modo e anche che poi è diventato un desiderio di non solo lenire un po' il nostro dolore, ma anche di raccontare e fare informazione rispetto al significato poi del transgenderismo, anche perché c'è molta confusione, quindi poi lei all'inizio giustamente sottolineava la confusione tra alcuni termini che hanno a che fare poi con il genere e così io due parole le direi. Sì, infatti io vorrei che lei ci spiegasse che cosa si intende per transgender, no? Perché viene fatta molto a strumentalizzazione, quindi a prescindere da questo uso scorretto, volevo proprio da lei che cosa si intende per transgender e se ci spiega la differenza tra orientamento sessuale e identità di genere, proprio per capire. Vediamo se riesco ad essere chiara. Allora, l'orientamento sessuale è ciò che l'individuo muove, la relazione che l'individuo muove da un punto di vista affettivo e sessuale, quindi ha a che fare con la relazione con gli altri. Ad esempio, mi spiego, un uomo che è attratto da un altro uomo non è meno maschio, ma il suo orientamento viene definito omosessuale e non ha a che vedere con l'identità di genere. Poi noi sappiamo che un uomo può essere attratto da una donna e quindi si chiama eterosessuale e esistono anche le situazioni di persone bisessuali che quindi si orientano, sono proprio attratte, amano, desiderano fare una famiglia, una coppia, proprio avere una progettualità con queste persone. Quindi è l'orientamento, l'importante è proprio capire questo passaggio, quindi la relazione con l'altro. Mentre invece nell'identità di genere o per identità di genere si intende il persistente senso di sé come maschio o come femmina, quindi la relazione che ciascuno di noi ha con se stesso, quindi non con gli altri. Quanto io, ad esempio, che sono nata biologicamente femmina, ho un'identità di genere femminile perché incarno e mi sento culturalmente proprio appartenente alla mia identità. E quindi nell'orientamento teniamo presente che c'è questo pensarsi nella relazione con gli altri, mentre invece nell'identità di genere c'è un'autoriflessione, quanto io mi sento nel maschile o nel femminile. Andrea e Sara sono emblematici di persone che devono trovare la propria identità di genere partendo da un genere biologicamente diverso da quello che loro sentono come appartenenza. E inizia un percorso. Allora, facendo riferimento proprio alla vostra attività psicoterapeutica, attraverso l'approccio anche della psicologia funzionale, ci dice come avviene, come ci si rende conto anche per i genitori, come ci si rende conto appunto di avere questa disforia, questo mi sembra sia il termine, e che cosa bisogna fare per poi trovare la giusta dimensione di sé, perché appunto è un percorso molto doloroso che poi finisce non per tutti allo stesso modo. Ci sono e ha delle implicazioni non soltanto psicologiche, delle implicazioni biologiche, e delle implicazioni anche a seconda dei vari passaggi che afferiscono ad ambiti molto ampi. Certo, anche sociale tra l'altro. Oltre a orientamento per identità di genere io spiegherei anche che cosa significa essere una persona transgender, perché la persona transgender ha una non sovrapposizione tra il sesso biologico, quindi assegnato alla nascita e l'identità di genere. Cioè una persona si trova nata femmina e sente che quello non è il suo abito, esattamente come una persona che veste qualcosa che non è, come dire, che non è suo. E normalmente nelle situazioni che poi noi abbiamo preso in carico, nelle situazioni poi anche che vede quasi quotidianamente Chiara Dalle Lucche, che è vicepresidente del consultorio di Torre del Lago, consultorio transgenere di Torre del Lago, che tra l'altro mi fa anche piacere, domani festeggiano i dieci anni, quindi con una grande festa, è un lavoro di equip incredibile. E appunto ci sono proprio dei segnali molto chiari fin dall'infanzia. Ad esempio una bambina che desidera fare pipì in piedi, oppure che veste solo abiti maschili, oppure che desidera che gli cresca il pisellino durante la notte. Allora questi potrebbero anche essere di segnali così che il genitore o la famiglia o l'entourage comunque vive come delle sciocchezze da bambino. Di fatto invece vanno monitorate nel tempo, perché se poi sussistono in età puberale e sussistono poi anche nell'adolescenza, allora si può parlare e capire ancora di più se si tratta di quella che lei poi prima ha definito una disforia di genere. Disforia di genere è un termine, purtroppo, ahimè, che troviamo nel manuale psichiatrico, nel DSM V, che è stato redatto, poi scritto nel 2013, e quindi dagli psichiatri poi americani, quelli a cui noi come medici, psicoterapeuti o psicologi facciamo riferimento come classificazione per i disturbi poi psichiatrici. E dicevo, ahimè, perché anche se c'è stato un passaggio importante nel 2013, quindi si parla di disforia di genere e non più di disturbo, quindi un po' le cose sono cambiate, ma sicuramente c'è ancora molto da lavorare, molto da fare per non entrare poi in questi circuiti anche di stereotipie. Quanto l'ignoranza, leggendo questo termine nella sua valenza etimologica, il non conoscere, comporta anche uno stigma. E quanto è importante conoscere per assimilare questa situazione a tantissime altre e anche per dare una prospettiva a queste persone che devono fare un percorso di transizione, di sentirsi, insomma, non mi passi il termine brutto, diversi, ma normali, come siamo tutti normali, perché poi alla fine siamo tutti normali nell'essere diversi. Quindi donare la possibilità a chi vive questa contraddizione di fare questo percorso di transizione e di trovare la sua giusta identità. Sì, l'ignoranza ha un peso su tutto e quindi anche su questo. Per fortuna esistono situazioni come questa in cui si può fare un po' di informazione, e quindi anche chiarire non solo termini, ma anche aprire un po' le menti e cercare, se non altro, di comprendere, che non è per forza un'accettazione ipso facto, ma ha il desiderio di voler capire qualcosa anche se non si è d'accordo. Questo lo troverei già, come dire, un obiettivo molto importante di civiltà, voler capire, voler conoscere, voler informare. Mi permetto di farne una domanda. Come si fa di fronte a una situazione di questo genere a dire sono d'accordo o non sono d'accordo? Perché poi è come una qualsiasi altra... Cioè uno nasce e sente, non lo so, che ha la pressione alta piuttosto che la pressione bassa, e quindi non capisco perché si debba ancora essere in qualche modo schiavi di una... Lei prima citava, no? Che veniva classificato come disturbo. Sì. Prima del 2013 era un disturbo. Io credo che sia del desiderio di ciascuno di poter, lo chiamo, navigare con il dubbio, di poter riprendere un po' il pantarei, il tutto scorre, e aprire la possibilità di una comprensione molto più ampia, di uscire soprattutto da stereotipi o stigmi, sicuramente non è facile. Non è facile perché ciascuno poi ha una storia alle spalle. Non c'entra nemmeno poi quanto siamo acculturati o quanto abbiamo studiato, c'entra molto quello che abbiamo incrociato nella nostra vita. Quanto poi c'entra ancora la convenzione sociale? In che senso? Nel senso quanto il fatto che i più non conoscano di che cosa si tratta, no? E quindi quello che non si conosce fa paura e quindi si allontana, no? E quindi si isola. Quanto questo appunto, pensiamo anche a, si diceva anche prima, fino a, non so, 30, 40 anni fa, 50 anni fa, già orientamento omosessuale, no? Mamma mia che cosa è. Oggi invece per fortuna se ne parla con molta tranquillità. Quanto appunto ci deve essere un percorso di consapevolezza perché ci sia un'accettazione poi senza giudizio che permetta poi a chi ha questa situazione di vivere il suo percorso in maniera più serena perché già è un travaglio interiore. Più ci mettiamo anche il condizionamento sociale, effettivamente. Ma io credo che, sì, abbiamo, sto pensando ad esempio a Regina Satariano che è un'amica, un'attivista trans che tra l'altro è intervistata anche nel nostro testo e che mi raccontava proprio pochi giorni fa di quanto si è cambiato anche il panorama sul transgenderismo dagli anni 90 ad oggi. Lei è una donna di 60 anni, una donna che ha sofferto moltissimo, che ha fatto strada poi, è fatto scuola, nel senso anche con il suo impegno sociale e anche civile. A tutte queste persone che poi oggi si affacciano al chiedersi chi sono, no? Perché l'identità di genere risponde a questa domanda chi sono io? E le cose sono cambiate soprattutto grazie anche all'informazione ma anche ai media, nel senso che chiunque, soprattutto anche alcuni ragazzini che arrivano, ragazzini sto parlando anche di sedicenni o anche adolescenti, insomma ventenni, arrivano con le informazioni che vedono, leggono insomma su web, alcune degne di nota, altre purtroppo, comunque purtroppo no, però comunque sono il frutto di anni, almeno di un trentennio, di lotte per i diritti civili e per guardare che il mondo è molto vario, dobbiamo rendercene conto, arcobaleno, quindi dato da molte sfumature. Ecco, questo non significa per me, anche proprio nel mio essere terapeuta, sdoganare tutto, tutto è possibile? No. C'è da capire profondamente, anche su un piano psichico, qual è il bene della persona, quindi non sostenere un capriccio ed è per questo che, quella che poi viene chiamata anche diagnosi differenziale, cioè capire se veramente queste persone che chiedono di fare un percorso di transizione sia veramente il momento adatto e nella loro pelle. Quali sono le domande che più spesso vi vengono rivolte da queste persone che si pongono degli interrogativi e magari lei ha detto una cosa molto importante, non è che sdoganiamo tutto, viene valutato caso per caso e va individuato se appunto con una diagnosi siamo in questo caso piuttosto che un'altra. Quali sono le domande e poi come avviene questo percorso per le persone che non è un capriccio perché giustamente lei per assurdo, quasi per ipercorrettismo magari uno o una vuole abbracciare qualcosa di diverso da sé quasi per negare un'identità perché poi ci sono tanti meccanismi. Certo, certo. Infatti molti anni addietro sempre Regina Satariano raccontava che ci sono state persone che dopo 10-15 anni ci sono chieste no, ma adesso io ho fatto tutto quel che dovevo fare quindi rientro nel genere poi assegnatomi alla nascita. Adesso le cose sono diverse, c'è maggiore consapevolezza, la maggior parte delle persone tende anche a fare l'operazione chirurgica ma non tutte nel senso che ad oggi noi possiamo avere il cambio dei documenti anche senza l'operazione chirurgica. Questo mi sembra una grande conquista di civiltà. Una grandissima conquista di civiltà è della Cassazione del mi sembra luglio-ottobre insomma 2015 perché altrimenti prima per il cambio anagrafico dovevamo attendere queste incredibili liste d'attesa ma soprattutto non solo per le liste d'attesa che sono veramente annose ma anche l'obbligatorietà di una riattribuzione chirurgica. Perché anche questo diventava una nuova imposizione se vogliamo. Che diventava una nuova imposizione. lei prima mi spiegava che nel percorso di transizione a seconda del singolo caso si può arrivare ad un livello piuttosto che un altro. Si può ritrovare la propria identità a prescindere insomma da interventi Certo, certo. Certo perché ha a che fare con l'identità di genere e quindi chi sono io come mi sento in questo mondo nell'essere femmina o nell'essere maschio. Poi qui si aprirebbe un panorama ad oggi incredibile perché si esce da quello che convenzionalmente si chiama binarismo sessuale o essere maschi o essere femmine. Si parla di gender variant di una fluidità di una fluidità di genere l'altro giorno sentiva appunto una ragazzina che diceva sì io voglio diventare maschio però vado bene anche in questa situazione qui in cui non sono né questo né quello. Ecco allora sì lo possiamo anche come dire accogliere però è importante soprattutto nelle situazioni poi di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni di far molta e molta chiarezza insomma che è quella che poi noi definiamo appunto diagnosi differenziale. la cosa così che vorrei sottolineare è che molto spesso le persone che arrivano da noi chiedono gli ormoni la prima cosa no arrivano perché attraverso la cura ormonale c'è il cambiamento di immagine di immagine quindi tutti i caratteri sessuali poi secondari e questo va calibrato molto bene no soprattutto molte persone tendono a non desiderare fino in fondo una psicoterapia o comunque un accompagnamento psicologico che faccia proprio capire fino in fondo se si tratta di disforia di genere oppure di altro questo perché in che senso questo perché si appunto lei diceva insomma le persone hanno cioè si avvalgono della psicoterapia oppure sono un po' guardinghe una volta che hanno individuato la problematica lei prima faceva riferimento agli ormoni risolvo cambio il mio aspetto e io mi sento a posto magari nascondendo un percorso che è anche un percorso psicologico eccetera allora spiego anche che cos'è in modo molto semplice il periodo di transizione cioè per transizione si intende un arco di tempo che può andare anche dai 3 ai 4 anni in cui la persona prende coscienza o pensa di aver preso coscienza di transitare da un genere all'altro no? quindi una persona nata come in questo caso Andrea femmina che vuole diventare un maschio beh che cosa succede intanto c'è bisogno ad oggi di o almeno non c'è nemmeno bisogno perché ciascuno potrebbe fare un po' anche per conto suo di fare una consultazione psicologica un percorso psicologico in cui viene definito e dichiarato e in qualche modo anche se il termine non è carino diagnosticato questa disforia di genere dopodiché si passa alla terapia ormonale e in seguito possiamo avere l'intervento chirurgico per poi avere anche il cambio anagrafico allora io ho impiegato quanti? 20 secondi a dire questo periodo di transizione di fatto invece è lunghissimo e devo dire per molte persone anche penoso quello a cui mi riferivo prima è che il dolore di queste persone è talmente forte di abitare un corpo e quindi di essere dentro ad un'identità che non sentono propria che come dire l'obiettivo è quello di cambiare l'involucro ecco perché la domanda prima mi chiedeva una domanda che spesso fanno una delle prime domande è quando posso prendere gli ormoni che è abbastanza comprensibile che è molto comprensibile certo che è molto comprensibile però come dire va dentro ad un accompagnamento di consapevolezza e di amore per queste persone che si hanno aspettato molti anni non può essere una cosa fatta poi di fatto potrebbero anche farlo nel senso che vanno fuori Italia fanno la loro cura ormonale femminilizzante no mascolinizzante quindi poi rientrano in Italia quindi non è quello il problema sugli ormoni è far sì che la persona dentro a questo cambiamento incredibile profondo su tutte le aree del sé sia pienamente consapevole perché ci sono molti casi in cui la domanda o la richiesta è quella del cambio di transitare mentre invece poi ci si ritrova dentro ad un orientamento omosessuale quindi bisogna avere la chiara essere consapevoli io voglio diventare questo ma semplicemente invece il mio orientamento non riconosco che mi piacciono i maschi e quindi trovo l'alibi se vogliamo sì un alibi insomma una parola come dire leggera però sì per alcune persone è questo quindi non tutti non tutte le persone che arrivano ai consultori oppure anche ai professionisti privati che comunque sono esperti del settore poi transitano no? comunque si definiranno persone transgender un domani l'approccio della psicologia funzionale ma è un approccio si sorrio sì allora la psicologia funzionale va intanto il nostro fondatore un termine importante ma è proprio così è Luciano Rispoli e siamo negli anni 80 noi potremmo dire che nasce come filone delle psicoterapie corporee ma poi come dire si è anche un po' separata perché noi funzionalisti non siamo solo psicoterapeuti corporei ma guardiamo alla persona nella sua complessità quindi chi arriva da noi è pur vero che si stende sul lettino ma non viene solo ascoltato ascoltato anche dentro alla sua narrazione sia di storia di vita ma anche di problematiche ma viene anche guardato su tutti i livelli e i piani di funzionamento quindi il posturale quindi il fisiologico e anche l'emotivo non solo ma noi lavoriamo proprio anche attraverso il nostro corpo con i nostri stessi pazienti con delle tecniche ad hoc specifiche importanti perché io credo anzi sono fermamente convinta che il lavoro solo sul parlato oggi come oggi sia insufficiente anche perché le persone non sono solo parlato no le persone sono un insieme sono un insieme appunto in questo senso poi funzionalismo proprio di funzioni è un sé che si muove una persona complessa si arriverà mai a considerare le persone in quanto persone a prescindere da identità orientamenti e tutto quello che vogliamo associare se partissimo da questo concetto che ognuno di noi è una persona un mondo composito da scoprire forse probabilmente liberandoci da classificazioni che magari servono nella pratica ma se appunto partissimo dal concetto siamo persone non sarebbe tutto più facile sì ma non ma non in questo mondo io credo ma credo non in questo mondo nel senso che sì sarebbe bellissimo ma il mondo è fatto di problemi gli uomini alcuni se li creano siamo meno sconvolti e ci sconvolgeremo meno di tante questioni che sono poi parte della vita non sono distorsioni ma sono essenza della vita sono essenza della vita certo io ringrazio non abbiamo più tempo a disposizione Roberta Rosin grazie a voi ricordo sconvolti interessante volume per conoscere la realtà transgender con conoscenza reale oggettiva senza distorsioni Roberta Rosin ha scritto sconvolti insieme a Chiara dal Lucchi io la ringrazio perché ha fatto chiarezza su questo tema e io vi ringrazio per essere rimasti con noi stamattina torniamo domani mattina al concerto in punto altri ospiti altri argomenti grazie grazie